Città deserta, anche i tarantini restano a casa rispettando il decreto per fronteggiare il contagio da coronavirus. Attraverso il passaparola sui social e grazie alle chat si riesce a socializzare comunque. Così in molti si sono dati appuntamento sui balconi per quello che ormai sta diventando un incontro a distanza quotidiano con i flash mob. Musica, canti e balli, addirittura una discoteca improvvisata in via e via. Suoni e immagini divertenti ma in alcuni casi anche in grado di creare suggestione. Tra i più ricorrenti a Taranto l'inno nazionale di Mameli, il brano del cantatore tarantino Diodato, Fai rumore ed un vecchio ed intramontabile inno del Taranto Calcio. Tra i più ricorrenti a Taranto Calcio.